Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio della Pixelmon. Nella scorsa puntata ho catturato un leggendario molto molto bello, uno dei miei preferiti, e inoltre ho aggiunto un altro Pokémon al team che andrò ad utilizzare per battere le altre palestre. In questo episodio ragazzi ho molte cose da farvi vedere, quindi iniziamo subito. Ragazzi girando per il mondo ho trovato questo albero con dentro la Master Ball. Allora andiamo ad aprirla, vediamo cosa contiene. Una lucidatura, quindi una mossa. Un'altra Master Ball da aprire, vediamo il contenuto. Una Muscol Banda. Ragazzi abbiamo un Milk Tank Boss, allora proviamo a usare Staraptor, vediamo un po'. Livello 102, ma stiamo scherzando? Stiamo veramente scherzando? Ok. Andiamo a fargli anche una zuffa. Ok, l'abbiamo ucciso se non me l'ha shottato, meno male. Allora abbiamo vinto, saliamo un po' di livello, ci ha dato un Luminous Moss, che non so cosa sia, una Baccarom e una Mimica. Terza Master Ball da aprire, vediamo il contenuto di questa. Lagga, lagga tantissimo. Allora, ragazzi c'è una laggata pazzesca. Ok, c'è un'altra mossa, riposo. Eh, forse sarà meglio che il server vada un po' a riposo. Ragazzi oggi è il giorno delle Master Ball, vediamo questa. Un'altra mossa Psycho Shock, credo di averla già. Oh, c'è un bel boss qua. Allora andiamo ad ingaggiarlo. Allora, volevo dirvi anche, ragazzi, che i boss non si possono catturare. Qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti, cattura i boss? Eh, ragazzi, purtroppo questo non si può fare. I boss si devono solo sconfiggere per recuperare i vari oggetti. Allora, andiamo un pochino a vedere. Disfoguscio, Radice Energia, Radice Energia e Gonfio Aroma. Dunque ragazzi, sono qui nel mio laboratorio perché ho iniziato a dare un po' di mosse interessanti ai Pokémon che andrò a utilizzare per combattere contro le altre palestre. Allora, a Ghirados ho già dato Cascata e Sdoppiatore e adesso volevo anche dargli Terremoto. Quindi andiamo a tirar fuori Ghirados, ok, eccolo qua, che prende anche danno nel mio laboratorio. E andiamo a dargli Terremoto, ok, vieni qua e lo mettiamo al posto di Sgranocchio che direi che proprio non ci siamo. Ok, sì, voglio sostituire. Perfetto, ah, me l'ha tenuta la mossa? O è un bug? Non lo so, ragazzi, la mossa ce l'ho ancora. Ok, ragazzi, come non detto, la mossa me l'ha tolta. Per quanto riguarda Manezon volevo insegnargli un'altra mossa che è questa qua che è InvertiVolt e metterla al posto di Tripletta. Ok, anche questo è a posto. Dunque, a Volcarone invece volevo dare Giga Assorbimento. Allora, andiamo qua, andiamo a dargli la mossa e la mettiamo al posto, direi, di, per il momento, Sdoppiatore. Ok, dunque, avevo un'altra mossa, scusate, da dare a Volcarona, ossia Fuocobomba che sarebbe Fire Blast, quindi andiamo a tirare fuori Volcarona e diamogli questa fantastica mossa al posto di Nitrocarica. Perfetto, ok, ci siamo. Dunque, ragazzi, ho una mossa anche da dare a Gengar. Ora lo tiro fuori, eccolo qua. Volevo dargli Fangonda. Allora, la andiamo a mettere al posto di, direi, Ombra Notturna. Ok, perfetto. Sì, a Gigalit, invece, che abbiamo visto nello scorso episodio, grazie ad Eren, possiamo dargli Tossina. Adesso, se riesce ad uscire, perché, ragazzi, oggi, veramente, questo server sta impazzendo. Lo diamo al posto di Caduta Massi. Ok, perfetto, ragazzi. Abbiamo dato un po' di mosse ai nostri Pokémon. Ovviamente non sono tutte quelle che serviranno, perché le sto cercando, le sto chiedendo agli altri, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Però, ragazzi, li sto preparando al meglio per le battaglie. Ragazzi, stavo notando che se io riuscissi a far arrivare sia Gigalit che Gengar al livello 70, potrei già essere in grado, in uno dei prossimi episodi, di sfidare qualche palestra. Anche se non hanno tutte quante le mosse che vorrei, però è una cosa che otterremo piano piano, altrimenti non inizieremo mai a sfidare le palestre. Quindi, ragazzi, voglio concentrarmi un pochino sul far livellare i Pokémon. Ragazzi, c'è un boss leggendario! Andiamo con Staraptor, forza! Veloce, prendilo! Prendilo subito! Ok, l'abbiamo ingaggiato. Livello 115, Staraptor è a livello 95, quindi... Allora, andiamo a fare un Baldeali. Ok, l'abbiamo colpito bene. Lui ci ha shottato, ragazzi. Aiuto! Allora, proviamo con Ariama adesso. Allora, proviamo a dargli una zuffa. Ragazzi, mi ha distrutto, è super efficace. Quindi, Magnezone, scarica, quasi shottato, però l'abbiamo un pochino diminuito. Adesso questa qua, shottato anche Magnezone. Volcarona, ragazzi, non so. Fuocobomba, ok. Mi ha shottato anche lui. Gigalit, abbattimento. Mi ha shottato anche Gigalit, ragazzi, non riesco... Oh no, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Mamma mia, ragazzi! Allora, cosa ci ha dato? Antigelo, riciclo, Maintalerba, Metronomo e Bora. Ragazzi, abbiamo shottato il leggendario, però mi ha veramente distrutto quasi tutti i Pokémon, ok? Che era a livello 115, però... Potenza! Ragazzi, ma questa Pokéball così abbandonata è soprattutto volante? Che contiene una bellissima bacca arancia? Ragazzi, oggi sto tentando un'altra impresa, ossia quella di portare uno dei miei Pokémon a livello 100. In particolare, sto tentando di far salire di livello Staraptor. Quindi lo faccio combattere con tutti i Pokémon a caso, senza stare a guardare se è efficace o meno, perché essendo di livello 99, praticamente li shotta tutti al primo colpo. Tra l'altro, anche gli altri Pokémon stanno salendo molto bene di livello. Sto provando tutte quante le mosse, come vedete, distruggo tutto in ogni caso. Dicevo che Gigalit e Gengar sono già a livello 65-58, ragazzi, mi sto dando da fare. E anche Aerodactyl è a livello 66. Oggi è proprio un giorno di livelli. Ragazzi, oramai ci siamo, oramai ci siamo, manca veramente pochissimo. Allora, andiamo a distruggere tutti i Pokémon di questo allenatore a caso. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Staraptor è arrivato a livello 100. Adesso vediamo di far fuori definitivamente tutti questi Pokémon. Ok. Benissimo, sconfiggiamo ovviamente questo allenatore. E ragazzi, abbiamo finalmente Staraptor a livello 100. Uuuuh, grande Staraptor! Beh, grande no, perché ragazzi, è di dimensioni piccolo. Però, ce l'ho fatta. Dunque, sono sempre qui nel mio laboratorio perché vorrei mostrarvi dei blocchi particolari che si possono fare nella Pixelmon. che si possono ottenere solamente utilizzando dei particolari Pokémon. Vi ricordate che in alcuni miei episodi ho catturato degli Annon. Gli Annon sono semplicemente dei Pokémon che rappresentano le lettere dell'alfabeto. Io ovviamente non sono riuscito a catturarli tutti quanti, ma man mano che li trovo li voglio prendere. Perché con le fotografie di questi Pokémon si possono creare questi blocchi. Allora, andiamo innanzitutto a prendere una Annon, per esempio il primo qua, che dovrebbe rappresentare la lettera A. Ora andiamo a fargli una foto. Vediamo se lo prendiamo. Ok, abbiamo la foto della Annon. Adesso possiamo farlo rientrare. Poi dobbiamo crearci un blocco, diciamo, non grezzo, come si dice, bianco, senza nessuna decorazione, che si chiama Temple Brick. Quindi bisogna utilizzare due di questi mattoni di pietra, anzi ne facciamo un po' di più di due, perché me ne servono un po' di più, e l'Arenaria. Ok. E otteniamo questo blocco delle rovine. Ne prendiamo un po', e con questo blocco delle rovine andiamo a craftare un altro tipo di blocco, che è il blocco Annon. Se ne possono fare nove mettendo questi blocchi delle rovine in questa maniera. Ora, facciamo così, prendendo la fotografia del nostro Annon e questo blocco, otteniamo il blocco Annon A, cioè quello che rappresenta la lettera A. Ne possiamo purtroppo ottenere uno per ogni foto, quindi è abbastanza costoso come crafting. Però vi faccio vedere ora come viene questo blocco. Lo metto qua, ecco qua ragazzi, come vedete il nostro Annon, lettera A, è rimasto impresso, o meglio intagliato nel nostro blocco. A me piacerebbe avere questi blocchi per formare il mio nome, almeno la parola Tech, e poterli mettere poi in giro nel giardino della mia casa. Purtroppo non ne ho così tanti. Volevo provarne a fare un altro, volevo provare questo che dovrebbe essere la F. Vediamo un po', allora, prendiamo il blocco, il Pokémon, facciamogli la foto. Ok, andiamo adesso qua nella crafting table, mettiamo uno di questi vuoto e la F. Ed ecco qua il nostro, la nostra F. La mettiamo di qua. Perfetto, beh carina anche questa dai, non è male. Tu rientra nella tua, nel tuo Pokédex. Allora, vi faccio anche vedere quali Annon ho. Non ne ho tantissimi, come vedete ho, credo, la I, questo non so se è il punto di domanda, questo non riesco a identificarlo, questo forse è la U, poi ne ho altri. Insomma, ho questi Annon qua, non sono tantissimi e spero ovviamente di trovarne degli altri. Nella Pixelmon ci sono altri blocchi decorativi per costruire dei templi, alcuni li avete visti forse nel percorso che abbiamo fatto per i Pokémon sulla Terra. Ve li faccio comunque vedere come si possono craftare. Allora, se abbiamo questi blocchi delle rovine e li mettiamo così, possiamo ottenere questo mattone antico. Ne faccio ancora un po' perché voglio farvi vedere, oltre al mattone antico, che possiamo craftare anche lo scalino di mattone antico. Ok. Poi, oltre a questo, ragazzi, si possono fare anche delle colonne. Allora, per fare la colonna dobbiamo mettere questo mattone antico qua, poi sopra e sotto quest'altro blocco delle rovine. Ora vado a piazzarlo perché questa è una colonna, come vedete, una specie di capitello che possiamo andare a fare. Dunque, possiamo anche fare il pillar, diciamo, rovinato mettendo sopra il mattone antico e sotto il blocco delle rovine. E abbiamo il broken pillar. Eccolo qua, come vedete, è mezzo rotto. Insomma, ragazzi, si possono fare veramente tantissimi blocchi decorativi con, appunto, la mod della Pixelmon. L'ultimo blocco che voglio mostrarvi è il blocco braille. Per chi non lo sapesse, l'alfabeto braille è un metodo di scrittura, tra virgolette, che viene utilizzato dalle persone non vedenti. In pratica, le persone non vedenti, per poter leggere, utilizzano le loro dita, passano il dito sopra delle piastre che hanno dei puntini e quindi riescono a riconoscere le parole. L'avrete sicuramente visto nelle ascensori perché spesso, di fianco al pulsante con il numero del piano, c'è anche, appunto, la rappresentazione braille. Comunque, a parte questa lezione, volevo mostrarvi come si fa questo blocco. Dobbiamo prendere sempre questi blocchi delle rovine, in questa maniera, li mettiamo così nella nostra crafting table e otteniamo il braille block. A questo punto, mettendo il braille block in questa posizione e dei bottoni in altre posizioni, possiamo ottenere le varie lettere dell'alfabeto braille. Io, ragazzi, non le conosco, però se andate sulla wiki della Pixelmon potete vederle tutte quante. Adesso io, per esempio, prendo questa che è la lettera G. Ve la faccio vedere qua, la metto qui, ecco qua. Vedete che la disposizione di questi puntini è la stessa dei bottoni che ho messo nella crafting table. Ragazzi, mi stavo dimenticando ancora un tipo di scalino che si può fare, che è quello utilizzando i blocchi delle rovine. Eccole qua. Quindi otteniamo le scale delle rovine. Ok, adesso abbiamo completato tutti quanti i blocchi possibili. E dunque, ragazzi, questo era l'episodio di oggi della Pixelmon. Spero che vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like. Mi raccomando, ragazzi, sostenete questa serie perché voglio portarla avanti ancora per un bel po' di tempo. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale ed attivare le notifiche cliccando sulla campanellina e mettendo la spunta all'opzione che trovate nel menu che vi compare. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!